Ho sentito qualcosa? No? Non ho sentito nulla, è la tua immaginazione Ah 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 Salve! Ma l'ha tagliato a metà! Ok, forse lo devo uccidere Pi 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 Ok, ce l'ho fatta No! Di un mazzo di chiavi Se non ci sono porte Devo scappare da lì? bellissimo signore piacere io sono Castellanos no grazie non voglio un bacino che bello sta vomitando cosa sta facendo oh c'è vita guardate che camminata sexy che ha è incredibile ma che carino questo si è fatto un po' di piercing pipippippippipp arrivippippipp Cos'è? Sembra tipo un maiale Ciao No, 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 ma stai No, non ti preoccupare Perché altrimenti non Vai così Squartalo bene Che schifo No, cos'è? Aiuto Mamma Muori male Sì, non corre, non corre più Non corre, non corre, non corre Che cacchio è? Cosa? Che cacchio hai da ridere? Credo di dover scendere Ah, che bello, non vedo l'ora Pi 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 Sta facendo il bagno nel latte O nello sputo dei mostri, probabilmente Mostro In una posa sexy Veramente eccitante Olè Adesso che ho un compagno mi sento meglio Sono più tranquilla Ma sei un pirla? Perché? Ma che? Andiamo via di qui Qualcosa non quadra in questo posto Sì, non solo nel posto Anche nel tuo amico qualcosa non quadra Però vedo che non ti fai domande Eh, sto arrivando Ma qua è un po' complicato È pieno di gente E quella sotto su cinque Ho capito Non c'è bisogno che me lo ripeti E questi bellissimi ragazzi Ale Yuhu Che bel culo che c'ha la ragazza Scusate ma Eh, vabbè Pi 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 Vabbè Porca miseria Nono ancora tu Davvero Non capisco Non capisco Ma che che No, davvero? Toh Oh yeah Oh yeah Acipigna Sebastian Perché c'è un cervello infilzato? Arby Non lo voglio sapere Porca Chi è? Sì certo Sono anche le molotov questi Posiamo un attimo Non possiamo continuare così Guarda anche 10 minuti Sì certo Olè Ops è volato giù E due All'avventura Cosa? Cos'è quello schifo appeso lì? Oh mio Dio Si sta trasformando Ecco Joseph vincitore del premio Imbecille dell'anno Dovevi lasciare che quelli No perché morivo anch'io Guarda l'avrei fatto Che cazzo fai? Chi è quello? Joseph Sei tutto intero Io Io Ma che domande sono? Sì Ecco Siamo arrivati Basta È morto Che peccato Dovrò continuare da solo Guarda Guarda Possiamo anche farne a meno Guarda qui Sembra che funzioni ancora Che bello Lo vedi? Joseph Alla tua Sinistra C'è un cecchino Non so se L'hai notato Ma io da qua lo vedo Mi sta puntando un fucile Joseph Joseph Oh porca di quella paletta Aspetta Aspetta Lì vedo gente morta E la cosa non mi piace oh cavolo che bello che schifo è sta roba ma che schifo è quella roba ma vabbè non avevamo dubbi no davvero può fare una cosa del genere ok è morto perfetto che c'è Sebastian mi sono caduti gli occhiali chi se ne frega dei suoi occhiali scusa mi dica prego cosa che cacchio succede no cosa devo fare cos'è cos'è sta cosa Wow. Guardate questo essere in tutta la sua bellezza. Ah, li battezzavano qua sopra? Molto interessante. Muoviti perché mi sta venendo un colpo al cervello. Com'è? No! No, c'ha un pollo in mano. Cos'è? Cosa sono? Cosa cacchio sono quei cosi? Scusi? Che succede? Hai visto un fantasma? Più o meno. La prego, non disturbi gli altri ospiti. Ahà. Ok. No, 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 aspetta. Aspetta, aspetta. Che cacchio? Cosa sta succedendo? Oh mio Dio, aspettate, aspettate, c'è un casino qua dentro. Un appuntamento romantico con un manichino. Ha sentito qualcosa? Ehm, no. No, no, passavo di qui. Che cacchio! Sì, c'è quella cosa lì che gira. Che mi trancia la testa. Aspettiamo che Sebastian è andato in trip. Un attimo. Cos'è? Kit di batterie. Questa grossa batteria portatile serve ad avere energia anche in caso di emergenza. E quindi? Vai, Sebastian. No, cos'è, cos'è? Ci ho ripensato. Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi. No, ok, di qua non posso andare. Che cavolo ha qualcosa! Proseguo lentamente. E va bene. E ok, sì, certo. No! Rimanga lì, signora. Cosa è stato? No, di nuovo tu Oh cavolo Schiaccia, schiaccia, schiaccia Sebastian Vai, 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 vai No, è morto Joseph Siamo di nuovo alla villa? Seriamente? No, non c'è nessuno Oh cavolo, cacchiarola Aiuto, 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 via Vai Ok, Sebastian Mi prendono in giro? Venga, venga Come? Ah, eccolo qua Mi scusi lei Che si avvicina in quel modo molto minaccioso Anche lei deve morire Non in questo modo così aggressivo però Signore, cioè Io le pago le tasse Non è che sono qua a giocare Sta arrivando altra gente Cacchio, cioè Ma io vi saluto Ciao, ciao Magari se arrivo così riesco a ucciderlo silenziosamente col cavolo Vai, 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 vai Ho fatto una cagata, ho fatto una cagata, ho fatto una cagata Ok, ok No, Sebastian, nemmeno io Perché è veramente disgustoso Forza, attaccatemi Sono pronta No, ho un proiettile solo Aspettate, aspettate Ok Pensavo peggio Ah Che diavolo Che cacchio Ma era una finta Sì in effetti Sebastian Cioè ci stanno prendendo in giro È finito così davvero L'altro così Ah Sebastian sei fantastico Signor Sì Ma tutto bene Si rende conto Che nessuno mi sostituirebbe Se vuole lo faccio io al suo posto Mi metto questo bel camicino Il cappellino E potrei essere una Gran bella infermiera maschile Dove sta andando? Scusi Oh è quello lì da dove è uscito? Scusate Cioè questo qua covacciato qua dietro Cosa pensa che non lo vedo? Ma muori Aspetta 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 Mi scusi lei un secondo che mi sto preparando Ok Sentite lo sforzo Di Sebastian In girare una manovella Che idiota Se l'hai lanciata addosso No Ho finito i proiettili Aspetta aspetta Fammi ricaricare Non lanciarla Non lanciarla Maledetto Che cosa le succede? Non mi succede niente Sto benissimo Non sta messa molto bene Non lo so Non lo so Non lo so C'è l'ho dietro Dov'è? Sali Aiuto Perché c'è un braccio Qua così? Vabbè Che cavolo No ma basta Ciao Joseph? Joseph? Ma che cavolo Sta succedendo? Pipis 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 Padri Oh cavolo Smettila di farmi Spaventare Grazie a Dio Stai bene Eccolo Eccolo qua Come sei arrivato Guarda che figo È stata dura povero mostro quindi pensi che dovremmo lasciar perdere puntare dritti verso l'ospedale esatto bell'idea detective sì certo aia questi mi lanciano robe però cosa no dai ho finito i proiettili tutti li faccio fuori qua oh oh quello è ruvic però ma kidman non è messa bene sta precipitando non può essere morta così appena ritrovata già schiattata ed è un po che non ci vediamo sì ha ragione lei la smetta di nascondersi ogni volta la metropolitana che spunta dal terreno guarda com'è messa ma com'è fatta arrivare fino a qui joseph come diavolo ci arriviamo giù no è joseph aspetta forse c'è un'altra strada ci vediamo di sotto e non potevo prenderla anch'io bibb 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 bibbi bibb 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 No, ok. No! Non me l'ho fatto bruciare! Porca miseria. Mi ha visto? Vaffan... I topi, i ratti. Seguiamo i topi. I topi sanno sempre la via di uscita. Penso di essermi bloccata perché non riesco a capire... Ah, va bene, grazie per l'avviso, qua. Oh, cavolo. Un pochino, Sebastian. Di te? Non lo so. Sei abbastanza strana. Che cavolo è stato? Ma come fai a sapere che è lui? Ma scusa! Ah, è Joseph. Sono qui, Joseph? Cosa? No, no, no! Cos'è sta cosa? Dai! No, Joseph! Lo devo affrontare io? Sei, sei... Guarda, Joseph. Sei una cosa uscena. Ok, però adesso posso entrare qua, vero? Vai, vai, vai. Vai, non ti fermare. Sebastian? Tieni premuto cosa? Eccola lì, Kidman, mano nella mano con Leslie. Tutta felicità. Ma non sai ciò che Ruvik vuole? Ma in quanti siamo qui? Dimmelo tu. Che cosa vuoi? No, Joseph! No! Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-ri-ri-pi-pi-pi. Ma che diavolo... Forse dovrebbe usare un po' di gel verde. Lei dice? Perché? Uh, The Pig! Che razza di film è The Pig? Iiii! Vediamo se... C'è... Ah, che cacchio! Ma da dove è uscito questo? C'è un ratto gigantesco che è morto. Eh, qui non posso entrare. Iiii! Porca! Ha dimenticato qualcosa? Sì! Oh, cacchio! Iiii! Ok. Mi hanno fatto più paure i to... Cos'era? C'è un Kraken qui dentro. Ok, lì c'è un tizio. Vediamo se riesco a ucciderlo. No. Bene. Oh, cacchio! Aspetta qua. Aspetta che si rialzi. Oh, poco, poco, poco! To! Uh! Sì. Ciao. Piano piano, eh, Sebastian. Anche qua c'è della schifezza corrosiva. Cos'è quella cosa? Cosa? È morto? Cazzo, cosa sono un elettricista? Grande, Sebastian. Ok, sono diventato un elettricista provetto. Incredibile. Ma vabbè... Oh, aiuto, me lo sto portando anche dietro, ragazzi. Preparate i piatti, perché qua il fritto misto è per tutti. Lo offro io. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-ri-pi-ri-pi-pi. Ecco, lo sapevo. Non mi piace per niente. Ma basta, soffrirai. Bene. Vai, 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 vai. e ci ritroviamo come al solito in un altro posto c'è una persona scomparsa lì no sono spariti tutti idiota d'accordo dove mi stai portando Sebastian fa da babysitter a Leslie indovino ragazzi siamo caduti di nuovo incredibile Sebastian è caduto di nuovo wow cosa proseguiamo vero Sebastian sei d'accordo con me anche tu vuoi scoprire la verità su questo gioco porca miseria oh no no sto lontano da voi no non ci sono ma che diavolo non ho mai pensato di utilizzare la lanterna come arma però mi hai dato un'idea what cosa no cos'è sta roba grazie cosa stai scherzando vero tu stai scherzando seriamente sei serio vi levate per cortesia sì certo ok ti va bene come risposta cosa cosa ma siete seri ma cosa ma smettetela ma no ma non è vero aiuto oh cavolo aia se uscirò vivo da qui non prenderò mai più l'ascensore guarda appoggio in pieno la tua decisione è morto Joseph non avevo capito no sparale tutta la nostra avventura per salvare Leslie è morto così ma sì buttiamoci che kifo quanto sei figo Sebastian in tutto questo quindi che c'è Sebastian mi sono caduti gli occhiali che che che